Ciao, sono Massimo, benvenuti all'Enoteca Paradiso Spiriti e Via. Da noi potete trovare una vasta gamma di bottiglie selezionate dalle migliori aziende del territorio, bag in box e prodotti di gastronomia. Vi aspetto qui nel mio negozio a Villa Franca Padovana, Enoteca Paradiso Spiriti e Vino, anche per qualche idea regalo e seguitemi sui social.